castenedolo capo di monte a due passi a città di brescia vi faccio vedere gli affari del secolo gli affari del secolo allora appartamenti a rustico veri finite voi come volete fantastici ve ne faccio vedere uno tanto per capire ingresso salone enorme tra via vista tetto nuovo poi da finire pavimenti impianti a che roba ok salone enorme salone enorme vista splendida posizione tranquilla reparto notte una camera una camera bella grande il bagno che è super spazioso super spazioso un'altra camera matrimoniale bella face a rustico lo comprate ve lo finite prezzo fare anche vista anche roba prezzo fare prezzo fare volete saperlo siete pronti 65 mila euro 65 mila euro che roba anche roba questo qua soggiorno ai roba a fare a fare palazzina piccolina no spese condominiali potete sceglierne tre uno per l'altro ce ne sono due con le tre via vista e uno normale che andate a cercare il video che vi divertite che ve lo vedete che adesso ve lo faccio a che roba a che roba 65 mila euro regalo regalo non pretela a fare chiamate subito subito 0 30 2 7 9 1 7 6 5 agente immobiliare riuniti 0 30 2 7 9 1 7 6 5 c'è mi arrivate a cercare l'altro video 9 1 7 7 6 5 5 6 5 6 0 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 8 9 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 10 9 9 10 10 10 11 8 8 9 9 10